Nicola Molteni, dobbiamo pagare una multa per il sovraffollamento delle carceri e questa multa finirà nelle tasche di detenuti, mi pare. Ma questa è una delle ipotesi che stanno avanzando da parte del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando. C'è la possibilità per poter affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri e per dare una risposta alle politiche di infrazione dell'Unione Europea di poter risarcire con una paghetta, con una mancetta di 20 euro al giorno ogni detenuto. Questa è una vergogna, è un'indicenza ed è assolutamente sconcertante che il Ministro Orlando, che tra l'altro in queste ore sta volando a Strasburgo col cappello in mano per prendere ordine all'Unione Europea, possa ipotizzare di pagare detenuti e criminali. Questo è un paese che gira al contrario, anziché sostenere le persone per bene, le persone oneste, le vittime dei reati, anziché lo Stato pagare le nostre imprese che si attendono soldi da tantissimo tempo. Questo è il governo che dà 45 euro ai clandestini, agli immigrati clandestini che vengono accolti tramite le politiche buoniste del Ministro che fanno sul nostro territorio e che danno 20 euro per ogni criminale. Se noi pensiamo che all'interno delle carceri ci sono 60 mila detenuti, noi possiamo ipotizzare che vengano dati 20 euro per ogni detenuto e a quei detenuti che non vengono dati i 20 euro viene dato un ulteriore sconto di pena del 20%. È dell'incredibile, ha dell'incredibile questa ipotesi, qualora dovesse essere formalizzata da parte della Lega sarà una battaglia su tutti i fronti perché le risorse devono essere destinate a anziani, giovani ed esodati e non certamente a chi ha commesso reati.